Ciao a tutti, siamo con Valentina Caffolla nello stand di SEAC a Eudisho 2023. Valentina è, come molti sapranno, un atleta pro di apnea, ha partecipato ai campionati mondiali per la nazionale croata in Kuwait e nel 2017 dedentrice del record di apnea sotto i ghiacci di 125 metri. Chiediamo a Valentina, dopo che è nata questa collaborazione circa un anno fa con SEAC, come si trova con le nuove BM30. Insomma, le chiediamo un feedback sull'attrezzatura SEAC. Buongiorno a tutti, grazie anche per l'introduzione. Sì, ecco, mi trovo attualmente con le BM30 che sono molto soddisfatta, sono delle fine molto molto morbide, che è anche questo materiale nuovo che è di polimero, che è un po' elastico, il quale, a differenza del carbone, non si spacca così facilmente. E sono molto morbide, così che anche non si stancano troppo e giusto a Kuwait ho fatto i 150 metri. Così che sono molto soddisfatta e spero che lo sarete anche voi. Grazie a tutti.